ben ritrovati in nuovo su review come promesso un'altra video recensione a tema abbigliamento da caccia barra da pesca io ho acquistato questo pile sempre per il discorso di andare a pescare quindi nessuno vi vieta comunque di usarlo anche per lavorare in casa o in giardino o anche per andare in giro è una scelta personale questa comunque lo trovate come modello pile 100 da caccia quindi sotto la sezione caccia di decatron allora andiamo a vedere subito insieme questo prodotto devo dire che come taglio preso s come vedete ma mi risulta un po larghina per quanto riguarda la parte bassa e anche un po di manica dipende sempre dal prodotto perché a volte verso l'anno a volte la s però devo dire che come taglia minima cms ma mi risulta un po larghino abbiamo comunque completamente questo file micro file davvero al tatto molto soffice non è neanche troppo spesso quindi riscalda sicuramente una volta indossato ma neanche troppo quindi il giusto abbiamo le maniche elasticizzate in entrambi i casi un colletto alto quindi che vi ripara anche dal eventuale freddo spifferi d'aria la marca soloniac sul lato destro e poi due taschine che sono davvero comode quindi ci andate ad inserire quello che più vi piace e le chiudete e tasche sono separate quindi non è una tasca unica unita abbiamo poi la cerniera che ovviamente vi permette di aprirlo magari se avete un attimo caldo e quindi devo dire che comunque un prodotto molto comodo ben fatto e come prezzo l'ho pagato sui 14 euro mi pare quindi davvero un prezzo accessibile c'è anche di color caffè io l'ho acquistato comunque verde oliva perché mi piaceva questo colore spero che questa recensione vi sia stata in qualche modo utile magari avete visto il prodotto sul sito ma non sapevate com'è effettivamente ecco vi ho dato il mio feedback se vi è interessata questa recensione lasciato un like iscrivetevi anche perché usciranno nuovissime video recensioni di prodotti che ho acquistato a tema abbigliamento da caccia barra pesca e inoltre questo video non è assolutamente sponsorizzato da decathlon o da soloniac la marca e quindi è una recensione che faccio un po per anche aiutarvi perché mi piace farla alla prossima review